Eccoci, buongiorno. Ho fatto un breve calcolo da sosta a sosta, cioè da Roma a Empoli a queste ultime due prima della sosta, cioè Servette e Cagliari sono in 23 giorni 7 partite. Di fatto 7 partite ogni 3 giorni. Se questo diventa, per la sfida con il Servette e poi eventualmente con il Cagliari, ma insomma partire dal Servette, questo forse è l'elemento più da gestire. Cioè il recupero dei giocatori proprio perché ci sarà un sovraccarico di stanchezza, di potenziale stanchezza. Però è una situazione che non ci possiamo nascondere. È una situazione reale, è un problema reale per tutte le squadre che giocano in Europa, principalmente per quelle che hanno rose meno equilibrate. E sappiamo, tutti noi sappiamo, anche in altri paesi si sta parlando tantissimo su questo tipo di situazione perché da infortunio a intensità e qualità di gioco succede, la gente lo capisce. Per una situazione che non ci possiamo nascondere. Ovviamente che faremo qualche cambio, ovvio. Ho già detto dopo la partita contro il Frosinone, ho già detto che Paolo domani sarà in panchina. Non solo Paolo, due, tre, quattro giocatori sicuramente faremo riposare. Però vogliamo vincere la partita. Per vincere la partita dobbiamo avere una squadra in grado di farlo. Per questo non sarà un turnover totale, però qualcosa si farà. Tante partite ravvicinate, chiaramente pochi allenamenti, però rispetto a quello che ha detto sabato scorso mi aspetto di più da me stesso perché sono sempre esigente. Mi aspetto di più anche dai giocatori. Frosinone, questi allenamenti, sta vedendo dei passi in avanti dai suoi giocatori, probabilmente anche dal punto di vista mentale, da quei giocatori che devono rendere un po' di più. E se proprio su questo lavoro che sta facendo con i giocatori, anche in campo, come abbiamo visto col Frosinone, prima della partita, nel riscaldamento, durante la partita, se le pesa ancora di più non essere in panchina domani. No, io ho fiducia nei giocatori, ho fiducia nello staff, non stare in panchina può avere un piccolo impatto, però non voglio andare più di là di questo, un piccolo impatto che dipende anche di come va la partita. Abbiamo vinto, abbiamo perso, come fuori panchina, non penso che questo fa una grande differenza. Dopo la partita contro il Frosinone, come io dico sempre, ho detto principalmente dopo la vittoria contro i Lempori, che con un altro allenatore sarebbe una cosa incredibile, sarebbe una partita di un altro mondo. Con noi è stato normale vincere 7-0. Dopo questa partita ho detto che noi eravamo bravissimi, incredibili, dello stesso modo che non è dopo sconfitta, che siamo tutti scarsi. Io dico questo quando si vince, dico questo quando si perde. Nella ultima partita contro il Frosinone che abbiamo vinto, il nostro lavoro non cambia perché il giorno dopo la partita abbiamo lavorato su tutto quello che abbiamo fatto bene e su tutto quello che non abbiamo fatto bene o che si può fare meglio. E questo definisce bene quello che siamo noi. Abbiamo vinto, per ogni tutto è stato perfetto e abbiamo lavorato sulle due cose. Ovviamente che è più facile lavorare sulle cose positive, anche perché questo qua ti migliora l'autostima, fiducia. E quando tu lavori sulle cose che tu hai sbagliato, che puoi fare meglio, ovviamente che tu devi farlo in un modo equilibrato, però tu devi farlo, non puoi ignorare, non puoi nascondere questo. Il contro il Frosinone in tutto è stato perfetto, però abbiamo fatto il nostro lavoro ieri. Oggi abbiamo iniziato a fare servette, dentro dei limiti che possiamo fare perché c'è poco tempo da lavorare, però oggi quando voi siete andati nel campo abbiamo fatto il nostro lavoro, fase difensiva, fase offensiva, senza grande intensità ovviamente, però abbiamo fatto di un modo a cui possiamo arrivare senza dubbi. E è questa la situazione. Nell'ultima intervista rilasciata a Sky ha sottolineato, secondo me anche correttamente, di aver vinto qui a Roma una Coppa e mezzo, ecco, ma di avere di fronte a lei ancora sei mesi per poterci riprovare. Allora le chiedo l'obiettivo della Roma, nonostante la presenza in partenza anche di squadre molto forti, vengono in mente Liverpool e Leverkusen su tutte, è quello di arrivare in fondo in questa Coppa, di poter provare a vincerla o a rivincerla a seconda delle valutazioni. Prematuro, primo obiettivo qualificare, secondo obiettivo finire primo. L'anno scorso abbiamo qualificato, però non primi e abbiamo giocato due partite in più contro una squadra che arrivava dai gironi della Champions. Se possiamo finire secondo o primo, ovviamente che dobbiamo fare tutto per finire primi. è prematuro parlare di dove si può arrivare, l'obiettivo è andare passo a passo e dopo vediamo. Se tu vedi le squadre che sono già in Europa League, ci sono squadre di altissimo livello. Se tu guardi le prime due gare di Champions, tu puoi iniziare già a immaginare che arriverà qualcuno squalo, no? Chi si dice? Qualcuno squalo arriverà sempre. Ovviamente che è molto molto difficile, però l'anno scorso era difficile e noi siamo arrivati lì. Però passo a passo è molto molto prematuro. Abbiamo tre punti. Prima di tutto qualificare e dopo se è possibile qualificare i primi e dopo a febbraio. Grazie a te. Grazie a te. Se vuoi guardare i primi due match della Champions League, potete vedere già ciò che si chiamano i rocchini che vengono a l'Europa League. Quindi ci rende le cose ancora più difficili. Ma anche l'anno scorso è difficile, ma siamo arrivati alla fine. PES. Se facciamo in tempo 4, se no 2 o 3. Buonasera. Le volevo chiedere di Bove, una prestazione positiva anche domenica, soprattutto forse nel secondo tempo quando è cresciuto. Ecco, se può giocare domani ancora titolare e quanto fa comodo un giocatore con quelle caratteristiche a centrocampo, soprattutto vista l'assenza di Sanchez, avere un po' di diramismo in più, anche di pressing magari rispetto agli altri che sono centrocampisti un po' più tecnici, ma con meno passo. Prima di tutto lasciami fare un pochino il scemo, che ho anche il diritto di farlo qualche volta. Quando ho parlato di Bove, devo ricordare chi ne ha fatto Bove. Non parlare sempre male, dire qualcosa, dire qualcosa positivo. Quando sono arrivato qua, Bove andavo in prestito a una squadra di Serie C. Dammi un pochino di credito, dammi qualcosina. Sì, Bove gioca domani, gioca domani di nuovo. È un ragazzo sano, è un ragazzo che non ha storia clinica, è un ragazzo che lavora incredibilmente sempre, anche quando non gioca. E questo qua è una qualità molto molto preziosa nel calcio di oggi, dove tante volte i ragazzi sono ragazzi senza questa forza mentale di lavorare sempre uguali. Questo ragazzo è straordinario a questo livello. Ovviamente, quanti più minuti ha in campo a questa età, più opportunità di evoluzione. Ogni minuto che lui sta in campo, giocando bene, benissimo, o non così bene, è uno che prende sempre questi minuti con grande senso di responsabilità. E sì, giocherà di nuovo domani. E sì, è sempre positivo Bove nella squadra, dà sempre qualcosa di positivo. E sì, nel secondo tempo dell'altro giorno si è liberato, ha avuto più spazio per giocare, ha avuto l'opportunità di si inserire e di arrivare una volta davanti a porta. È un giocatore che è un giocatore che cresce. Il orribile allenatore è molto orgoglioso di aver dato a Bove l'opportunità di, in due anni, andare da CERICI a un giocatore importante per la Roma e per il calcio italiano. Volevo fare una domanda su Paredes, in questo caso non se gioca o se non gioca, poi se lo vuoi dire va bene, ma è capire quanto Paredes dà in più alla Roma, giocatori diversi con Matic ce lo sappiamo, però insomma dà molto in fase di costruzione, perché vede il gioco in una certa maniera, certe palle vede in maniera precisa. E quanto forse c'è da lavorare quando la palla ce l'hanno gli altri, perché magari ha un po' meno forse dinamismo, non so se è una questione di condizione, però insomma la Roma ha un po' di sofferenza certe volte, mi pare di capire, soprattutto nelle transizioni. E' un prodotto finito, si dice, no? E' un prodotto finito come giocatore, non è un ragazzino in fase di evoluzione, è quel giocatore là che io ti dico veramente che in fase offensiva mi è piaciuto tanto da sempre e adesso che lavoro con lui, dico di più, amo, amo con la palla, amo. E la squadra con lui è diventata una squadra che invece di avere sempre o quasi sempre meno possesso palla che l'avversario, è una squadra che sempre o quasi sempre ha più possesso palla che l'avversario, perché questa è la sua caratteristica, è una connessione importante fra i difensori e la parte offensiva, una grande tranquillità con palla, anche penso che si la godde in questo tipo. Senza palla è un pochino quello che siamo noi, non è solo Leo, siamo noi, non siamo una squadra molto veloce, non siamo una squadra con una transizione molto forte, con una transizione molto reattiva, non siamo questo. Quello che cerchiamo di fare sempre come squadra è di trovare equilibri, perché se siamo equilibrati questo tipo di problema si sente meno, perché la squadra lo combatte con più equilibrio. Nella ultima partita mi è piaciuto veramente questo equilibrio che la squadra ha avuto, la vera opportunità che loro hanno avuto è stata una profondità diretta dell'attaccante centrale, dove noi difensivamente non abbiamo anticipato il ridotto, la profondità, quando il giocatore era in possesso era palla libera. Non penso che sia stato un problema dei giocatori di centro campo, penso che sia stato un problema dei difensori che non hanno anticipato la profondità. E questo per dire che basicamente la tua analisi è corretta, io sono d'accordo. Mi piaceva tantissimo Nemanja e per questo motivo ha giocato per me in tre club diversi. Mi piace tanto Paredes come caratter, come giocatore e in fase offensiva amo. Penso che è veramente un grande giocatore che è un giocatore che è un possesso.